E dopo aver rivissuto grandissime emozioni con la gara maschile dove è stata scritta una pagina indelebile di storia del ciclismo, vi invito a proposito se non l'avete ancora fatto a passare dal video sulla gara maschile, beh le emozioni continuano e sono amplificate per noi italiani con la gara femminile dove arriva la vittoria della campionessa del mondo Elisa Balsamo. Pensate giovanissima solamente 23 anni per l'atleta di Cuneo che ha conquistato appunto il titolo di campionessa mondiale proprio sulle strade del Belgio, proprio sulle strade delle Fiandre a Lovagno e quest'oggi riesce a conquistare la sua terza classica world tour in otto giorni. Perché pensate domenica scorsa ha conquistato il trofeo per Alfredo Binda, storica corsa a Cittiglio, poi si è trasferito in Belgio e ha conquistato in volata di gruppo dominando la classica Bruges de Pan e quest'oggi conquista la gara che come ha detto nell'intervista è la sua preferita, la Gent-Wevelgem. Una corsa da un'importanza veramente incredibile e beh quest'oggi è ancora lei la più forte. Terza vittoria world tour in una settimana, tutte e tre grandissime classiche che vanno ad arricchire un palmarès che ha soli 23 anni è già di livello veramente assoluto. Ma andiamo a parlare brevemente di quella che è stata appunto la gara di oggi, non l'ho potuta chiaramente seguire tanto perché in contemporanea c'era anche la gara maschile, ho seguito sostanzialmente gli ultimi 30-40 km ma sono andato a recuperarmi un po' le informazioni sulle prime fasi di gara. Innanzitutto il primo colpo di scena è stata la caduta di Lorena Vibes prima del primo passaggio sulla salita simbolo di questa corsa ovvero il Kemmelberg che le donne hanno affrontato due volte a differenza degli uomini che l'hanno affrontato per tre volte. Proprio sul passaggio sul Kemmelberg si forma un attacco e anche nelle fasi successive di sei atlete tra cui troviamo le più importanti la campionessa belga Lotte Kopechki, la campionessa svizzera Marlen Roesser della SD Wars, campionessa europea Crono, la nostra Marta Cavalli e appunto le corridore delle atlete della Jambovisma Anderson e Rivera. Più che altro in supporto alla capitana Marianne Voss che è la detentrice, appunto la vincitrice dell'edizione 2021 di questa corsa. Ma a chiudere appunto su questo tentativo sono le atlete della Trek Segafredo, in particolare una strepitosa campionessa europea Ellen Van Dijk. Sul secondo passaggio sul Kemmelberg, stavolta dal versante più duro, quello dello Suer, arriva l'attacco di Grace Brown, l'atleta della Fedege, cerca di fare la differenza. Ma viene ripresa. Si forma così un gruppo di 30 atlete e da qui inizia veramente una fase di grande anarchia perché abbiamo visto diversi attacchi, in particolare da parte del SD Wars con Mayerus, con Black, con Cecchini. In particolare appunto quest'atlete ma anche la Jambovisma con Anderson e Lisbarns per la Canyon's Ram. Abbiamo visto sempre su questi attacchi inserirsi un atleta della Trek Segafredo in funzione da stopper. Da prima Shirin Van Arroy, quella che indossa la maglia di migliore giovane under 23 della classifica UCI. La stessa appunto Ellen Van Dijk, la campionessa italiana, e Elisa Longoborghini. Tutto questo appunto in supporto come funzione da stopper per una possibile volata di Elisa Balsamo. Perché nel frattempo Lorena Vives era riuscita a rientrare, ma poi su un nuovo passaggio sul Kalmenberg si è staccata, addirittura se non sbaglio si è ritirata. Per cui sostanzialmente Balsamo era la più veloce rimasta in gruppo. Per quanto comunque fossero presenti atlete molto pericolose, in primis Marianne Voss e Lotte Kopecki. Dunque, una fase di grossa anarchia, a un certo punto si spezza il gruppo, restano davanti diverse atlete anche pericolose come Susana Andersen, come la nostra Elena Cecchini, come Lonek Uneken della SD Works. E davanti era presente anche Ellen Van Dijk, che a un certo punto si rialza, perché vedeva che dietro il gruppo stava iniziando a perdere. Ellen Van Dijk si rialza, una tirata micidiale di quella che è la passista più forte in assoluto in questo momento nel ciclismo femminile. Una tirata mostruosa di Ellen Van Dijk che da sola va a riprendere il gruppetto di testa. Nuovi attacchi, in particolare con Lonek Uneken, di nuovo la velocista della SD Works. Con velocista, assieme a Lotte Kopecki, che attacca, assieme anche alla nostra Sofia Bertizzolo. Vengono nuovamente riprese a questo punto, negli ultimi tre chilometri, sembra tutto pronto per una volata di gruppo, ma arriva l'attacco di Grace Brown. Il classico attacco di Grace Brown in pianura, altra passista veramente formidabile, che come spesso ha fatto cerca, diciamo, l'affagianata. Cerca di sorprendere l'avversario con un attacco in pianura, ma ancora una volta, Ellen Van Dijk, in questa volta in compagnia anche di Marlen Roister per la SD Works e di Anna Henderson per la Jambovisma, riescono a richiudere sull'attacco circa un chilometro e mezzo alla conclusione. A questo punto inizia, diciamo, la preparazione alla volata, con Marlen Roister che si porta in testa con la ruota Lotte Kopecki e in terza piazza la nostra Elisa Balsamo che marca subito la ruota della campionessa belga. Lancia una volata Marlen Roister, a un certo punto a circa 250 metri alla conclusione parte Lotte Kopecki con la ruota Elisa Balsamo e Maria Giulia Confalonieri, altra atleta molto veloce per quanto riguarda la Ceratisit VNT, con Marianne Vos che dall'altra parte della strada prova a fare una volata a sé. Ad averla meglio è la nostra Elisa Balsamo che con una ruota di vantaggio più o meno riesce a conquistare una grandissima vittoria alla Genve Welgen proprio davanti a quella che probabilmente è la ciclista migliore di tutti i tempi o comunque sicuramente, numero alla mano, la più vincente di tutti i tempi. Stiamo parlando di Marianne Vos, la campionessa uscente, lei che conquistò la vittoria nel 2021. Terza posizione per un'altra italiana, stiamo parlando di Maria Giulia Confalonieri che riesce a chiudere davanti a Lotte Kopecki. Quinta posizione per Emma Norsgaard, sesta posizione per Marta Bastianelli, settima posizione per Susan Anderson, ottava per Tamara Dronova, ottimo risultato per la Russa, come del resto la nona piazza di Silvia Persic, un atleta che in questa stagione sta facendo benissimo. Dopo il bronzo in mondiali di cross ha trovato una dimensione su strada che era veramente impensabile, è sempre lì in tutte le classiche del World Tour, su tutti i terreni, sterrato, pavé, collina, è sempre lì nelle prime posizioni. Una Silvia Persic fantastica, decima posizione, chiude la top 10 Clara Copponi per la gruppa MA, FDG. Comunque ragazzi, direi che per questo video è tutto, mi toccare i commenti, mi piace iscrivervi, sicurisci anche sulla nostra pagina Instagram, quanto è forte Elisa Balsamo, ha 23 anni, già a conquistare vittorie su vittorie nel World Tour, ancora a margine di miglioramento e potrà veramente diventare una delle migliori nella storia, se continuerà così. Forza Elisa Balsamo che veramente ha un futuro strepitoso davanti a sé.